Abbiamo deciso questa sera di dare una view di quelle che sono le principali problematiche che riguardano il sistema pensionistico e conseguentemente dare delle soluzioni che oggi i nostri clienti possono trovare per affrontare meglio il futuro. Ora c'è la tradizione all'interno delle imprese che il TFR mantenuto all'interno dell'azienda sia l'unica forma di autofinanziamento possibile. Invece è necessario che le imprese e i commercialisti possano aiutare le imprese in questo senso si indirizzino ad affrontare il tema della previdenza complementare. Lavoriamo ormai con FOTS, banca da tanti anni. Abbiamo cominciato con loro a parlare di previdenza ormai 15 anni fa. La banca da subito si è impegnata in modo molto efficace ed efficiente riuscendo a raccogliere davvero un numero impressionante di adesioni individuali. Negli ultimi sei mesi abbiamo cominciato invece a concentrarci sulle adesioni collettive e questo diventa veramente l'obiettivo per i prossimi anni per andare incontro alle esigenze importanti degli aderenti.